Hanno un nuovo problema vecchio all'ospedale San Massimo di Penne, infatti questa mattina i pazienti del reparto di Alisi hanno visto in pericolo le loro cure per un problema all'impianto idraulico del reparto. Questa mattina l'ennesimo disagio che si è verificato qua alla struttura del centro di Alisi di Penne, noi come associazione dell'ANED stiamo segnalando da più tempo tutte le difficoltà che ci sono presso la struttura e questo è per l'ennesima volta la dimostrazione che nessuno ascolta né noi come rappresentanti né i medici che si stanno comunque preoccupando di segnalare queste difficoltà. E questa mattina come inizio del buon anno, quindi come auspicio per questo anno, è successa l'ennesima disavventura che i pazienti hanno ritardato l'inizio della dialisi per colpa di questo attappamento che si è verificato. Ci sono pazienti che vivono di un equilibrio chimico-fisico molto particolare e questi disagi sono molto pericolosi. La struttura principale attualmente si sta sistemando, però il problema rimane come rimane la struttura fatisciente che non è carante di qualsiasi pronto intervento. L'ospedale non sta passando dei giorni felici, però noi adesso ci preoccupiamo soprattutto per i nostri pazienti emodializzati che hanno diritto ad avere una struttura adeguata a soddisfare le loro esigenze. Il problema che è successo oggi è un problema puramente legato a alcune carenze strutturali, però il problema che ci poniamo noi è anche quello della qualità dell'assistenza, perché una struttura non adeguata condiziona la qualità dell'assistenza.